Ben tornato a Pietro Macellaro edizione 2014 di Rappanettone, ci parli un po' come sta andando questa edizione? Beh, cosa dire, fantastico, si respira l'aria di panettoni e siamo qui. Fortunatamente abbiamo finito l'anno, ultimi due pezzi, già di sabato e insomma tutti per affrontare la domenica purtroppo senza panettoni. Ci avrà portato alcune novità quest'anno? Beh, le novità ogni anno in casa mia sono sempre tante, no? Quest'anno ho portato meno tipologie ma ancora più fantasose, quindi abbinamenti dei lievitati con la lavanda, lavanda a chilometro zero, con le melanzane, pistacchi e cioccolato, naturalmente le melanzane caldite da me in casa, e a castagne al ginseng, quindi anche una formula di panettone un po' più energizzante, perché no? Insomma mi sono concentrato su questi bussi un po' più fantasiosi e quindi per i risultati insomma si siano ben visti. Le faccio tantissimi complimenti e ci rivediamo l'anno prossimo. Va bene, grazie. Grazie a voi.